Buonasera a tutti, sono molto contento che ci siate a gremire la sala perché per me è un onore, è un piacere presentare Andrea e il suo ultimo bellissimo libro che io ho avuto il privilegio di leggere un po' mentre stavi facendolo e quindi ho visto anche un cantiere che è anche un tema del libro in corso d'opera. Andrea lo conosciamo, lo conosco da quando abbiamo cominciato a scrivere. Credo che qua mi conoscano praticamente tutti. Penso di sì, è Andrea Canobbio di Torino, lo conosco da quando entrambi abbiamo fatto il primo libro perché anzi ci siamo conosciuti perché siamo andati a presentarlo a Osta, se mi sono passato a prendermi a Ivrea siamo andati a Osta e quindi adesso dopo lunghi anni siamo di nuovo qua e io sono felice perché questo libro è meraviglioso, io lo trovo una cosa di qualità altissima nel senso che la scrittura di Andrea è sempre stata di qualità altissima e qui come dire diventa al cubo perché intanto la sua arte nel frattempo si è evoluta si è consolidata e maturata tantissimo e poi prende di petto, questo è come lo vedo io, prende di petto come dire un altro da sé, della sua arte perché la sua arte è molto, non vorrei dire una cosa sminuente, ma insomma è geometrica, precisa, cadenzata, equilibrata, intelligente, razionale e qua si confronta con qualcosa che non è nessuna di queste cose, cioè con un elemento perturbante della vita familiare sua, della sua famiglia che è la figura del padre, in particolare la figura del padre depresso, la depressione del padre è un punto, come si può dire, inscalfibile, misterioso e tutte le armi e tutte le potenzialità della scrittura di Andrea si confrontano con questa cosa ne viene fuori un libro di potenza impressionante è di grandissima, io direi, emozione, alla fine questo libro ti scava dentro, entra da tutte le parti dove può entrare la persona anche se non racconta un vissuto necessariamente nostro, però lo fa in maniera tale che non si può più staccare l'occhio dalla pagina neanche se capitassero delle cose terrificanti in giro, come peraltro capitano ma io non vorrei dilungarmi in questa maniera qua, così un po' caotica perché abbiamo tante cose da dire, ha tante cose da dire Andrea e comincerei lasciandolo raccontare così proprio semplicemente l'inizio di questa opera che ha richiesto otto anni di lavoro se vuoi dire com'è partita sì, intanto veramente grazie a tutti dopo vi ringrazio uno per uno di essere qua stasera mi fate veramente un enorme piacere sì, è iniziato tutto una sera a casa intorno al nostro tavolo da pranzo mie sorelle, io non me le aspettavo assolutamente si sono avvicinate con una valigetta e non capivo che cosa stava succedendo e mi hanno consegnato in modo un po' formale un po' solenne, come se mi dessero il tesoro di famiglia questa valigetta di cui io ignoravo completamente il contenuto e che forse invece loro conoscevano perché comunque aiutavano mia madre a riordinare gli armadi e in questa valigetta c'erano 460 lettere che i miei genitori si erano scambiati tra il 43 e il 46 poi c'era una quarantina che erano anche successive e per me questa è stata la causa scatenante del desiderio di scrivere il libro perché non ero abituato a pensare ai miei come una coppia infelice perché c'era stata la malattia di mio padre perché c'erano stati tutti questi problemi e il fatto di non averli mai visti felici evidentemente mi aveva segnato però leggendo le lettere invece ho scoperto che avevano avuto una grandissima storia d'amore e ho capito anche insomma che questa storia poi è continuata e anche andando al di là dei miei ricordi che erano appunto ricordi dolorosi in cui li vedevo sempre afflitti afflitto mio padre dalla sua malattia e afflitta mia madre dal fatto di non riuscire a farlo uscire fuori da questa malattia ho iniziato a pensare che in un'altra forma hanno continuato naturalmente ad amarsi a volersi bene sono cose che magari razionalmente ci sarei potuto arrivare prima e avevo in fondo quando ho iniziato tutto avevo 50 anni e non ero proprio un ragazzino però è incredibile come appunto ciò che si impara o che si inizia a pensare nell'infanzia diventa veramente un pregiudizio diventa un giudizio che ti segna e per cui diventa difficile poi superarlo e quindi tutto è iniziato da lì da queste lettere che ho naturalmente la prima cosa che ho fatto essendo come mi hai bene descritto tu una tendenzialmente una persona troppo razionale la prima cosa che ho fatto è che non ho guardato come erano ordinate come erano sistemate quindi ho ignorato l'ordine che mia madre rileggendolo ogni tanto gli aveva dato perché probabilmente ne aveva messe da parte alcune che piacevano di più e che rileggeva più spesso e io tranquillo come veramente come dico nel libro come un elefante in una cristalleria ho preso queste lettere le ho messe tutte in ordine cronologico distruggendo qualunque tipo di ordinamento precedente e questa è una delle cose che mi colpisce ripensando al lavoro di tutti questi anni perché poi invece avevo ben chiaro che io non avrei raccontato in modo in ordine cronologico la storia dei miei genitori perché perché ero sapevo ed ero convinto che il finale non doveva essere il finale della appunto della linea cronologica della loro storia coglierei questa indicazione del rimettere in ordine cronologico anziché diciamo tematico e lo metterei in collegamento col fatto che tu dici ti sei reso conto in qualche maniera più complessa che semplicemente potendoci arrivare da solo che era stato una storia d'amore e che è considerata essere una storia d'amore perché questo spostamento è come fosse uno spostamento di blocco e di prospettiva mi sembra di capire che tu ci sono tante cose che ci siano detti su questo libro e tu spesso dici ma potevo arrivarci prima però invece l'ho capito lì e allora tu che sicuramente da qualche parte c'eri già arrivato prima hai aggiunto come delle prospettive secondo me io mi sono fatto questa idea che tu hai preso dei grandi blocchi e li hai sistemati in una maniera tridimensionale questo libro è molto complesso ma non è complicato è complesso perché è fatto bene è costruito in maniera perfetta però appunto il tempo, i temi tu li hai montati in maniera tale che ne hai fatto un oggetto che per conto mio aggiunge una dimensione ulteriore a quello che tu hai sempre fatto e mi sembrava che potesse essere questo la chiave d'accesso per questa chiacchierata qua cioè che tu sapevi delle cose ma poi le hai viste anche oltre a saperle come se avessi visto una foto che da bianco e nero diventa colori una cosa piatta che diventa tridimensionale una cosa del genere c'era una cosa molto ingombrante e molto tridimensionale che fin da subito ho pensato che era il terzo personaggio di questa storia ed era la città Torino perché i miei genitori hanno abitato a Torino per tutta la vita e quindi io stesso ho abitato a Torino per tutta la vita e quindi però ecco con una grande differenza che mio padre si sentiva un torinese autentico io invece mi sono sempre sentito un po' un esiliato e anzi scrivere questo libro è stato un modo un po' anche per riappropriarmi di Torino e di così girare, andare a trovare le zone perché dico che la città era fin da subito presente come personaggio? perché la prima cosa che ho pensato è che appunto il modo migliore per raccontare a mio padre era raccontare le cose che aveva realizzato lui era un ingegnere, era un ingegnere civile e ha costruito, è stato direttore dei lavori di un sacco di edifici a Torino e quindi insieme alle lettere la prima cosa che ho iniziato a studiare anche lì non pensando di trovare così tante cose sono state le agende di mio padre nelle agende di mio padre a un certo punto mio padre ha iniziato non ho capito bene perché alla metà degli anni 60 più o meno ha iniziato, credo che fosse già un inizio di sue angosce, di sue paure a segnarsi tutto quello che faceva ogni giorno quello che una data persona gli diceva erano veramente dei verbali verbali sembravano verbali d'accusa è come se volesse da un lato esser sicuro di potersi difendere così se un giorno saltava fuori uno che gli diceva non hai lavorato abbastanza non hai fatto abbastanza non fai mai abbastanza è come se lui avesse avuto per tutta la vita questo giudice sopra di lui che lo così che lo condannava e queste agende erano talmente fitte di cose di appunti che dopo un po' poi ho iniziato a trovare le cose che poi mi interessavano di più cioè le cose che riguardavano la malattia ed era buffo è buffo perché affioravano nelle agende in modo strano in fondo a una pagina per esempio dove aveva scritto di cose di lavoro l'ho messo nel libro ho fatto una foto l'ho messa per esempio una parola soltanto malissimo anche lì lui faceva molta fatica a parlare a raccontare cioè aveva trovato un modo per segnalare che stava male in effetti poi parlava sempre di sé perché poi la depressione trasforma le persone diventano appunto completamente autocentrate quindi parlava sempre di sé ma in realtà non parlava della depressione parlava c'era sempre delle maschere comunque ed erano problemi di lavoro problemi immaginari di salute problemi con altre persone e quindi quindi sì ecco per ritornare alla domanda che mi hai fatto la tridimensionalità viene dal fatto che doveva essere calato nello spazio cioè doveva essere una storia smontata nel tempo ma calata nello spazio come se avessi parlo molto della passione dei miei genitori per i mobili a ribalta avevamo in casa avevamo in casa queste ribalte che si aprivano e c'erano i cassettini e dentro i cassettini c'erano delle scatoline oppure nei cassetti c'erano delle cartelline dentro le cartelline dei fogli e questo accumulare di cose che è veramente un tratto familiare non siamo accumulatori seriali però quasi diciamo che siamo sempre lì sull'orlo di diventarli e questa cosa credo di averla ripresa nel libro cioè ho veramente costruito come se fosse un mobile con tanti cassetti in cui ho infilato i ricordi le associazioni di idee legate a quei ricordi ed è venuto fuori sto mattone un mattone fa sempre parte un mattone doveva essere un mattone per forza doveva essere un mattone per forza su spazio e tempo tornerei presto ma per adesso qualcosa di come dire di introduttivo al volume cioè tu prima mi dicevi che ci hai impiegato 8 anni che questa cosa ti stupisce ancora ora e quindi ci dici qualcosa di che rapporto hai avuto e hai con questo lavoro magnifico che hai fatto sì adesso se ci penso penso ma che cosa ho fatto in questi 8 anni non mi sembra possibile di aver passato così tanto tempo a occuparmi di una storia a cercare a fare tutte queste ricerche a parlare andare a parlare con gente che aveva conosciuto i miei scoprendo tra l'altro delle cose andando all'archivio di stato a frugare tra i documenti di mio nonno non mi sembra verosimile perché se ci penso adesso penso ma avrei dovuto lavorarci due o tre anni e poi scrivere qualcosa invece evidentemente avevo un bisogno di farlo un bisogno di proprio di esaurire tutti i cassettini del mobile della ribalta perché non perché poi nel frattempo ho accumulato idee o in realtà avevo voglia di scrivere qualcos'altro lo racconto anche a un certo punto che avevo una voglia terribile di mettermi a scrivere qualcos'altro per uscire fuori da questa gabbia in cui mi ero infilato però però poi alla fine alla fine l'unica spiegazione che mi do è che dovevo scriverlo e che ho tenuto duro e l'ho scritto insomma non scriverò mai più libri così lunghi l'ho anche l'ho anche promesso a una persona molto importante non scriverò abbiamo trattato e scriverò libri di 150 pagine ma con che font? è piccolissimo no dunque ma tu quindi pensi di averlo finito perché hai esaurito tutto quello che c'era da fare cioè tu ne sei uscito dall'unica porta che cerca era quella di completarlo beh in realtà tu sai che invece adesso sto scrivendo una cosa che sarà una cosa breve di 50-60 pagine e che però riprende la storia di mia nonna che è raccontata un po' nel libro perché è una scoperta che ho fatto appunto andando a parlare con un cugino che era più anziano di noi e quindi li aveva conosciuti era già adulto quando aveva insomma aveva conosciuto anche mia nonna che io non ho conosciuto perché è morta nel 59 e questa e questa figura la figura di mia nonna si è rivelata è bastato un racconto di questo nostro parente per aprirmi una una prospettiva pazzesca su di lei su quello che era su quello che ha vissuto e lei era un vero personaggio romanzesco su di lei si potrei scrivere un romanzo ma avendo promesso di non scrivere più romanzi molto lunghi non posso scriverlo allora ho pensato di fare un'altra cosa per Dario anche per ringraziarlo del sostegno ormai trentennale e cioè di scrivere un racconto legato a delle fotografie perché questa nonna era appassionata fotografa era stata appunto regalata una macchina fotografica negli anni venti negli anni trenta scattava fotografie alcune strane sorprendenti poi mio nonno e mia nonna avevano viaggiato molto perché mio nonno aveva lavorato molto in Sud America quindi ti beccherai questo polpettone però piccolo polpettino 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 avvelenato uno spin off sì è uno spin off questo è realmente uno spin off ecco ma adesso invece vorrei entrare dentro la questione dello spazio del tempo partendo dalla scacchiera e dal cavallo allora il montaggio ci direi qualcosa tu di questo di questo di questo lavoro il montaggio è come se fosse molto marcatamente spaziale no? tu dici il terzo personaggio convocato è la città e in fondo c'è questa c'è questa scacchiera che viene percorsa dalla mossa del cavallo in maniera tale che senza passare mai due volte sulla stessa casella venga coperta tutta no? io sono molto affezionato è un problema matematico sì sì no è una soluzione matematica è una soluzione è un problema matematico e questo a me mi fa sempre molta simpatia questa cosa qua tua sì però non è un'idea mia no è un omaggio a Georges Perec che è un po' il mio scrittore mito che aveva che ha costruito il suo romanzo più importante la vita e istruzioni per l'uso con questa cosa qua sì lui l'ha fatto con la facciata di una casa immaginando che ogni casella fosse una stanza di questa casa io ho semplicemente ruotato la griglia semplicemente l'ho messa l'ho appoggiata sulla città e appunto ho immaginato di muovermi da un posto all'altro con questa mossa del cavallo ecco proprio il cavallo come ci diceva prima sì ma in realtà appunto una delle prime cose che ho a cui ho pensato era questa immagine comunque eroica che avevo di mio padre che però nel frattempo poi durante tutta la mia vita avevo così passato il tempo a sminuire a ad accusare accusare di essere malato no? queste queste cose assurde che se ci penso appunto non riesco a farmene una ragione però di fatto quello che facevo era questo e nello stesso tempo come tutti i bambini avevo di lui un'immagine eroica che era era molto legata al suo essere stato un militare lui aveva fatto l'accademia del genio qua a Torino ha fatto poi appunto è partito per la Russia è riuscito a tornare e quando da bambino guardavo le foto di mio padre di quegli anni le foto che mi piacevano di più erano le foto di lui a cavallo sono diverse foto di lui a cavallo perché lì era veramente il cavaliere senza macchie senza paura proprio ed era e poi tra l'altro appunto pensando a come mi sorprendeva il fatto che non avesse continuato ad andare a cavallo dopo dopo la guerra no? come avesse abbandonato questa questa passione comunque che aveva tra l'altro in in accademia lui era anche famoso per essere uno spericolato motociclista anche se le moto all'epoca non è che andassero a velocità folli però dicevano dato che lui aveva un gran nasone dicevano che appunto che andava più veloce perché fendeva l'aria col naso i suoi i suoi compagni di corso no? e il quindi c'era questa idea del centauro no? del centauro del dell'essere appunto a metà cavallo metà uomo e ho iniziato questa è un'immagine che ho ho già usato parlandone con Dario diverse volte ho iniziato a provare con questa con questa figura del cavallo come poi con altre immagini del libro un po' la sensazione che si ha quando si si mette la limatura di ferro avete presente era un esperimento che si faceva una volta con una con una calamita no? la limatura di ferro viene attirata dalla calamita e e così queste figure una di queste appunto il cavallo ha iniziato ad attirare tutta una serie di immagini no? appunto la mossa del cavallo degli scacchi è una mossa strana perché è una sembra un po' un pezzo che va avanti barcollando no? va avanti a zig zag in realtà è una mossa molto astuta perché permette di scavalcare dei pezzi per esempio e di nuovo quindi c'è questa ambivalenza c'è una debolezza è un aspetto invece di forza e ho iniziato appunto a trovare tutti degli elementi che a mano a mano che mi che legavano il cavallo a mio padre no? e appunto nel libro racconto di questa idea che mi sono fatto che il cavallo fosse il nostro animale totemico no? il nostro totem di famiglia ce ne sono ci sono delle altre cose allora qua ci ci è è la chiave d'accesso a un altro strato del 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 tuo libro e cioè questo meraviglioso richiamo etnografico etnologico che tu fai no? inserendolo in maniera perfetta in una storia familiare e lì come si diceva prima c'è c'è all'opera tutta una questione di tempo e di spazio no? perché anche quello che va a vedere l'indigeno si allontana come si diceva come dicevi si allontana nello spazio ma perché va a prendere una cosa che è contemporanea ma è prima perché l'indigeno è il nostro passato no? tu metti insieme queste cose qua e tramite la figura del cavallo puoi esprimere cosa hai fatto sì la cosa buffa che io stavo leggendo dei libri di etnologia quando ho iniziato a scrivere quando ho iniziato a lavorare al libro e usavo un po' questi racconti degli etnologi che partivano andavano a studiare le popolazioni primitive un po' come distrazione perché comunque mettermi a scrivere queste cose era molto doloroso molto triste se trovavo una scusa mi mettevo a leggere qualcos'altro però in effetti dopo un po' ho capito che c'era qualcosa che mi incuriosiva proprio nel lavoro dell'etnologo gli etnologi stessi all'inizio la metà dell'ottocento hanno iniziato a pensare alle popolazioni primitive come l'infanzia dell'umanità no? cioè loro andavano viaggiavano nello spazio andavano in Africa o in Sud America per andare a trovare per andare a scoprire un po' il passato nostro degli uomini occidentali quindi era un viaggio nello spazio però per viaggiare nel tempo per viaggiare indietro nel tempo e il e così mi è venuto istintivo fare il paragone con chi come me si metteva in quel momento a studiare i propri antenati i propri nonni i propri bisnonni perché c'è un po' se pensiamo appunto ai nostri antenati abbiamo comunque un atteggiamento di un senso un sentimento di superiorità per prima cosa sappiamo come è andata a finire sappiamo che certe scelte che hanno fatto loro magari erano scelte sbagliate abbiamo il famoso senno di poi per cui ci sentiamo anche di giudicarli di giudicare le loro scelte e poi c'è stato cioè la storia del mondo è andata avanti c'è stato uno sviluppo un progresso un cosiddetto progresso un sviluppo tecnologico quindi come non sentirsi superiori rispetto a persone che andavano in giro sui carri trascinati dai cavalli di nuovo il cavallo e quindi e quindi questa cosa ha iniziato a affascinarmi e ho così ho iniziato a trovare delle cose che mi che mi interessavano dalla appunto della mitologia dei Dogon questa popolazione africana fino al libro di Michelle Leiris l'Africa fantasma dove parla della delle scene di possessione demoniaca in Etiopia no? da ognuna di queste cose riuscivo a trarre qualcosa che improvvisamente in modo un po' paranoico forse un po' alla Dali mi mi ricordavano o mi mi spiegavano no? mi spiegavano mio padre devo continuare su questa cosa siamo sicuri? sì no per esempio ci sono questi due ci sono questi due etnografi Marcel Griol e Michelle Leiris che vanno che fanno partono per il viaggio e a un certo punto appunto trovano scoprono questo mondo incredibile no? dei Dogon che è perfetto proprio per l'etnologia è perfetto perché risponde a tutto quello che loro si aspettano di dover trovare e tra l'altro poi Marcel Griol ritorna questo viaggio che hanno fatto insieme degli anni 30 ma lui ritorna negli anni ritorna fino praticamente alla sua morte a metà degli anni 50 e però a un certo punto si fa un'idea chiara perché all'inizio non ha capito esattamente tutto esattamente come era ci è voluto un po' di tempo e ha individuato queste due figure che sono figure abbastanza affascinanti una lui lo chiama il genio ingegnere cioè è questo essere soprannaturale che i Dogon così venerano che è in realtà è un pesce siluro però è il pesce cioè è la divinità che gli ha portato la civiltà che ha portato la civiltà che ha fondato l'agricoltura che ha fondato che ha insegnato loro la tessitura persino il linguaggio gli ha insegnato questo questo genio ingegnere e dall'altra parte c'è invece il fratello di questo genio ingegnere è un ribelle è una volpe pallida lui all'inizio nel primo libro pensava fosse uno sciacallo perché non l'aveva mai visto poi a un certo punto gliel'hanno fatto vedere e ha capito che era una volpe pallida e che è una una volpe della della zona subsahariana e questa e questa volpe pallida è il ribelle no? è quello che è scappato dalla dall'uovo prima del tempo che ha rubato un pezzo di placenta che si è appunto che ne ha combinate di tutti i colori e e io appunto leggendo questa cosa per allontanarmi dal libro ho iniziato a pensare che in realtà mi stava rispingendo verso il libro questa storia perché evidentemente il genio ingegnere era una parte di mio padre no? era il costruttore è quello che da che detta le regole e l'altro e però anche l'altro era una parte di mio padre perché mio padre a modo suo in modo patologico è stato un ribelle no? fin da in realtà era il ribelle della famiglia si è ribellato a suo padre una volta la prima volta perché è partito volontario per andare in Russia la seconda volta perché dopo la nel 46 nauseato dall'esercito da come funzionava quello che evidentemente era successo in Russia ha lasciato l'esercito perdendo quindi la possibilità di questa carriera sicura no? e ho trovato appunto le lettere le lettere con cui mio nonno cercava di convincere peraltro delle bellissime lettere delle lettere che io che non ho conosciuto mio nonno mi hanno fatto voler bene a mio nonno perché mettendomi nei suoi panni no? che padre non cerca di proteggere il figlio no? di fargli fare la scelta giusta e per lui la scelta giusta era quella di stare lì di stare in un lavoro sicuro tanto più che ormai la guerra c'era stata no? non c'era il pericolo che ce ne fosse un'altra e quindi e quindi lui invece si è ribellato se n'è andato dall'esercito ha iniziato a fare l'ingegnere libero professionista e gli è andata straordinariamente bene ha avuto molto successo però qualunque successo non era abbastanza cioè qualunque qualunque risultato qualunque obiettivo raggiunto non era abbastanza perché perché lui era legato a questa condanna paterna no? al fatto di averli delusi al fatto di aver deluso suo padre e sua madre al fatto di non aver potuto di non aver voluto insomma seguire i loro consigli e quindi sì e quindi a un certo punto ho capito che potevo leggere qualsiasi altra cosa di etnologia ma anche non di etnologia e avrei trovato qualcosa che riguardava mio padre questo fa parte della calamita sì della calamita per cui a un certo punto ho pensato basta adesso non leggo più niente vorrei costellare un po' attorno al concetto di giudizio alcune parti dei livelli del libro nel senso che tu prima dici vabbè gli etnologi vanno con un senso di superiorità e ci mettono un po' all'interno della loro scienza a stabilire che invece c'è una parità poi tu dicevi che giudicavi tuo padre e anche se razionalmente ti sembra impossibile che averlo fatto però hai dovuto fare anche tu un lavoro per non rimanere lì nel giudizio lui è sottoposto autogiudicantesi come ribelle che non doveva fare il ribelle anche si è incastrato un po' attorno alla questione del giudizio che cosa diciamo di questo libro una delle cose che ho pensato subito è che non volevo scrivere l'analisi psicologica né mia né dei miei genitori né cercare di analizzare le dinamiche perché non sono uno psicologo non uno psichiatra e non sarebbe venuta fuori una cosa dal mio punto di vista divertente la cosa che io ho fatto è di iniziare a scrivere e di cercare di far uscire fuori delle cose che avevo dentro e che non sapevo nemmeno di aver dentro per esempio quando ho iniziato a scrivere di mia madre io non avrei mai pensato che mi venisse fuori il sarcasmo che ho usato in certe parti per parlare di mia madre no? per parlare di certi atteggiamenti di mia madre perché il sarcasmo è un sentimento violento mia madre era la persona perfetta tanto quanto mio padre era pieno di difetti e debole e fragile e noioso e insomma sì aveva poveraccio ne aveva tutte no? invece mia madre era la persona perfetta perché era era dolce sensibile sempre misurata nelle sue manifestazioni nelle sue emozioni e naturalmente invitava anche a noi a questo esercizio della misura però se avessi raccontato appunto le cose come le sto dicendo adesso non sarebbe uscito fuori un libro dal mio punto di vista interessante no? ho preferito lasciare uscire fuori il il bambino che appunto che che fa un po' il capriccio no? c'è una scena che è la scena mitologica fondante del culto della misura nella mia famiglia ed è la scena in cui noi al mare mia madre non voleva fermarsi il pomeriggio in spiaggia e quindi ci portava a casa tutti i nostri amici i nostri cugini si fermavano in spiaggia noi invece dovevamo andare a casa allora io uscivo dai bagni frignando lamentandomi e chiedevo qualcosa in cambio chiedevo una e quindi per esempio chiedevo di poter tornare a casa noi stavamo in una casa sulla collina di Pegli e chiedevo di poter tornare a casa in taxi ma questa era una cosa ridono tutti quelli che mi conoscono è una cosa che assolutamente mia madre era contraria per principio a prendere il taxi quindi non c'era verso di convincerla allora andavo avanti con le richieste e a un certo punto arrivavo all'ultima spiaggia proprio l'ultima richiesta possibile e le dicevo almeno pesami perché lì sul lungomare c'era una bilancia era una bilancia dove bisognava mettere credo 10 lire 5 lire probabilmente mi dicono dalla prima fila 5 lire e poi uno si pesava e veniva fuori un talloncino che da una parte aveva delle figure di soldati o di personaggi storici e quindi sì la cosa era almeno almeno questo cioè almeno pesami però il peso era era un segno era un segno di adesione al suo culto per la misura perché come dire le dicevo vabbè sto facendo i capricci però sto dalla tua parte no sto dalla tua parte so quanto è importante essere in forma non esagerare mai a tavola e insomma almeno almeno pesami ha sempre un successo enorme ecco uno uno dei 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 motori compositivi del libro è anche parzialmente una ricerca no perché almeno in varie parti tu sei mostro cercando di capire cos'è che aveva scatenato la depressione di tuo padre e l'esito è l'esito è il libro non è che c'è una risposta però se ci dici qualcosa di questa di questa ricerca di questa di questa chiave che non si è trovata in quanto chiave ma che si è trovata polverizzata in un sistema di spiegazione sì ma io in realtà all'inizio pensavo che qualcosa l'avrei capito cioè che avrei trovato una una ragione più forte delle altre per che che avesse causato questa questo improvviso crollo psicologico di mio padre e di ragioni ne ho trovate ne ho elencate tante perché appunto partendo dalla dalla guerra dal quindi da un da un ipotetico trauma in guerra da anche soltanto il trauma di cui lui ogni tanto parlava di questi soldati che aveva della sua compagnia lui comandava una piccola compagnia del genio trasmissioni ed era molto orgoglioso di averli portati indietro erano in 37 no c'è un'agendina in cui segna appunto che li ha portati tutti e 37 indietro e poi sono tornati a maggio e a luglio a metà di luglio c'è stato un tremendo bombardamento a Torino eh del 43 e alcuni di questi sono morti in questo bombardamento dopo essere dove essere riusciti a tornare dalla Russia e questa per esempio questo questo evento queste persone questo essere sopravvissuto non soltanto a tutti quelli che erano morti in Russia ma anche a questi che erano con lui no? che erano morti a ritorno eh lo leggo ad un ad un evento che poi era è successo poco prima che lui stesse male e che molti medici indicavano come la causa scatenante veramente della sua depressione c'è un incidente in un cantiere in cui erano morti tre operai e ora lui non era assolutamente innocente non aveva non aveva ancora assunto l'incarico non aveva mai visitato il cantiere no? però eh comunque c'era stata un'indagine e c'era stato un articolo sulla stampa che all'epoca era una cosa importante cioè avevano nominato nome cognome e anche l'indirizzo di casa no? e per lui questa era stata una cosa come se l'avessero scritto sul marmo no? lasciandolo non era una cosa che era insuperabile cioè era una vergogna insuperabile perché comunque qualcuno eh tra l'altro dei suoi colleghi che avevano fatto una perizia su questo cantiere eh avevano dubitato di lui no? e quindi improvvisamente gli era crollato il mondo addosso letteralmente nel senso poi sicuramente aveva essendo poi il tipo che era si era sentito comunque in colpa per questi questi operai che erano questi muratori che erano morti e quindi sì ci sono ci sono tante cause eh poi poi sì ho indagato anche sulle cause familiari perché eh c'era la storia di dove aveva un fratello più vecchio che in famiglia veniva sempre indicato un po' come modello no? come il figlio perfetto a cui lui doveva doveva sempre ispirarsi però questo modello poi a un certo punto era irraggiungibile perché non nulla bastava mai come appunto vi ho detto prima nulla era mai sufficiente a farlo avvicinare anche soltanto a questo a questo modello di perfezione e sì e quindi e quindi e quindi e quindi alla fine alla fine trovo trovo diverse ragioni possibili però però mi sembra che manchi sempre qualcosa mi sembra che che la depressione e il modo in cui l'ha vissuta lui per 30 anni sconvolgendo la vita familiare no? per 30 anni mi sembra che manchi manchi la cosa veramente importante sempre mi sembrano tutti tutte piccole cause piccole poi sono in realtà cose tragiche grandi ma non c'è mai il messe tutte insieme mi sembra che non riescano a giustificare questo questa tristezza irrimediabile no? questa cosa senza senza via di uscita ecco però come 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 esito questo libro che ha la capacità che forse è squisitamente appannaggio della scrittura forse anche altre arti ma adesso mi viene in mente che quando quando la scrittura riesce riesce a fare questo piccolo passaggio quantico no? che non ti dà la risposta lineare ti dice è successo questo e quindi è successo quello però come prima mi dicevi tornando al cavallo e al cavaliere c'è uno scatto dove tu rimetti in prospettiva sempre parlando di prospettiva anche la depressione di tuo padre tramite quella cosa etiope no? ah sì questa è un'altra delle cose che ho che mi ha molto colpito appunto leggendo il libro sempre il libro di Michelle Eries l'Africa Fantasma a un certo punto loro arrivano in Etiopia e lui si mette a studiare i fenomeni di di possessione demoniaca e una delle cose che viene fuori è che questi demoni che prendono possesso dei malati li usano come cavalli cioè loro gli etiopi dicono che il malato è il cavallo del demone e quindi di nuovo un'altra volta mi viene in mente mi è venuto in mente che la depressione usava mio padre come un cavallo non era tanto dentro di lui era sopra di lui era sopra di lui e lo guidava sì sì in realtà per raccontare l'uscita possibile da questo libro mi viene in mente un'altra immagine che ho usato prima che è quella dell'accumulatore seriale perché c'è qualcosa dell'accumulatore seriale in questo libro cioè il fatto di ficcare dentro in questi in ognuno di questi spazi della città i ricordi più dolorosi come se lì potessero stare no? come se potessi disfarmene naturalmente non lo so ancora devo verificare poi beh sei avuto successo sì so tu hai fatto un lavoro pazzesco in realtà in questo libro qua perché poi se vai a vedere hai messo insieme anni spazi cambiamenti di punto di vista cioè alla fine questo è un resoconto di una trasformazione in realtà no? dove tu ti sei trovato praticamente a fare i conti senza poterne uscire finché appunto non è stata esaurita come lo vedi adesso che è là cioè lo vedi anche tu come un risultato un martone un martone vabbè però per fermare le porte per fermare le porte capito ma invece anche dentro il martone no adesso sono in una fase in cui l'ho finito e me ne devo occupare e insomma sto iniziando un pochino a detestarlo ma poco poco ma ti sei anche tolto un peso eh il peso 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 di un mattone sì il mattone è il peso vero sì almeno pesami però glielo ho detto ah glielo ho detto no glielo ho detto ho detto al libro almeno pesami eh almeno fammi uscire questo questo peso fammi liberami da questo peso ma può darsi che abbia funzionato non lo so adesso sono scaramantico non voglio dirlo perché però però per concludere questa parte quantomeno tu hai scoperto delle cose in corso d'opera per esempio cosa tu in realtà sentivi e provavi per la madre sì no? questa è una scoperta che tu hai fatto quindi è è anche curioso questo fatto che uno scriva una cosa l'ho anche elaborata nel senso che sono poi mi sono chiesto perché mi stava succedendo cioè racconto quella cosa lì racconto il fatto di stupirmi di questo rancore e perché lei era appunto l'essere perfetto no? e quindi come puoi osservare rancore verso un essere perfetto e e facendola forse diventare un po' meno perfetta nella mia testolina l'ho riavvicinata però l'ho riconquistata insomma ma anche quando mi dicevi che viene anche se irrazionalmente da dire al depresso fai qualcosa no? perché non fai niente cerchiamo di tirarti fuori non collabori no? e questa è dolorosissima come come esperienza ma poi quando tu mi dici che e invece il cavaliere e il cavallo si sono scambiati di post tu non hai più quella cosa da dire perché non perché lui è passivo di una cosa che non è lui sì ma infatti infatti ci sono tutte e due queste cose da un lato c'è il fatto di dare un giudizio morale e di considerare la malattia mentale come una debolezza caratteriale no? da cui bisogna scuotersi come se appunto un depresso potesse così per magia liberarsi della sua depressione certo negli anni in cui mio padre era malato non c'erano magari le medicine evolute come adesso non si parlava così normalmente di psicoterapia forse non c'era appunto una consapevolezza e nelle famiglie c'era la tendenza appunto a colpevolizzare i malati di questo tipo di cose sì dall'altro c'è la totale impossibilità nostra di occidentali di credere a quella storia della possessione demoniaca no? l'Eiris lo racconta molto bene nel libro perché la possessione demoniaca ti libera completamente di qualunque responsabilità morale perché tu puoi uccidere una persona ma non sei stato tu è stato il demone che ti ha spinto e l'utilità della possessione poi è quella cioè tu hai lasciato la tua famiglia non ti occupi dei tuoi figli non c'è problema la colpa è dell'altro no? di questi zar si chiamano senza riferimento ai zar russi ma viene bene comunque si chiamano zar e sono appunto sono delle figure demoniache che ti costringono a comportarti in un certo modo e però per noi è impossibile credere a questo perché siamo nati e cresciuti in una cultura in cui ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni e deve risponderne salvo che certi malati in realtà non sono più responsabili di quello che gli succede ma anche anche certe elaborazioni del concetto di inconscio fa capolino questo fatto che poi non sei tu io ma è l'ess che fa una lettura estrema dell'inconscio il raptus che però insomma i psicanalisti più bravi sappiamo di cosa si parla ma cosa posso ancora dire che il titolo è bellissimo grazie quando è arrivato questo titolo qua non me lo ricordo non me lo ricordo c'è mai assolutamente tanto tempo che no non lo so a un certo punto mi è venuto in mente che doveva essere un viaggio che era un viaggio certamente notturno e poi vi ricordate la storia che vi ho raccontato di Nommo e della volpe pallida e beh a un certo punto leggendo di cose del Mugeo dell'Egizio qua di Torino ho avuto un'altra illuminazione poi ho scoperto che in realtà è una cosa che hanno studiato un sacco di etnologi di antropologi di mitologi e cioè che questa mitologia Dogon in realtà è molto legata alla mitologia dell'antico Egitto addirittura ipotizzano che i Dogon fossero una delle tribù discendenti da una delle tribù egiziane che si erano disperse per il Nord Africa nei secoli successivi alla fine della civiltà egizia perché la mitologia egizia ricalca ci sono queste due figure Osiride esattamente molto simile a questa figura di Nommo e Seth suo fratello è molto simile alla volpe pallida la ribelle e quindi c'è la guerra tra loro due che appunto che e vabbè e studiando queste cose dell'antico Egitto sono capitato sulla storia della della traversata che fanno fare insomma tutte queste divinità al morto nella notte successiva appunto alla alla sua scomparsa per portarlo per fargli attraversare la notte e portarlo ad una ad un nuovo giorno ad una nuova alba e quindi questa traversata notturna mi è sembrata mi è sembrata un titolo corretto no? perché anch'io forse cercavo di di accompagnare i miei genitori fuori da me fuori da me e portarli verso una verso una non so dove ma insomma che si togliessero un po' dai piedi ma io vorrei ancora dire una cosa se non le poi perché il libro non è esaurito in questo che ne abbiamo parlato di in questa chiacchierata del libro molto più complesso e ricco un elemento che vorrei sottolineare è che c'è spazio per tanti momenti di terza tenerezza no? che magari mettendo insieme tutto quanto può venire in mente che non che sia stipato e non ci siano queste zone franiche invece invece ce ne sono tantissime e sono mi hanno proprio come dire stritolato il cuore quando quando vedevo il tuo dire di te bambino delle cose in relazione a cosa il bambino diceva da papà per esempio quella cosa del supermercato e quello è proprio pam voglio dirlo non è che c'è altro da dire sì ma credo che ci siano delle scene beh tutta l'ultimo capitolo se non vi autorizzo a saltare tutto il libro ma leggete l'ultimo capitolo perché l'ultimo capitolo è stato sì è stato un capitolo liberatorio perché finalmente dopo aver scritto tutte queste cose tristi e dolorose ho raccontato la loro storia d'amore ho raccontato le loro lettere e ci sono anche delle cose buffe perché la calligrafia di mia madre che era scriveva in modi assurdi svolazzanti non era praticamente in grado di fare un numero 29 che si leggesse come 29 tutti i postini leggevano due S per cui le lettere non arrivavano mai mio padre correva su e giù per via Gioberti rincorrendo i postini chiedendogli se avevano nella borsa una lettera per lui poi la cosa buffa è che fino durante la guerra come potete immaginare la posta era un disastro e quindi loro cercavano appunto di scriversi di di comunicare di ottenere di ricevere notizie però in qualche modo le lettere arrivavano poi appena finita la guerra c'è stata proprio secondo me la rivolta dei postini di via Gioberti perché hanno iniziato a rimandarle al mittente sistematicamente proprio non non volevano più consegnarle queste lettere in cui l'indirizzo era scritto male e però naturalmente poi mia madre era stata subito accolta in famiglia ed era adorata da tutti quindi tutti cercavano di giustificarla e dicevano ma no ma non è vero che questo numero è fatto male in realtà si legge è proprio il postino che è scemo non riesce a leggere che sapeva benissimo che però era quello indirizzo ma sì chiaramente è stato chiaramente un atto di ribellione del postino che non ne poteva più ogni volta di dover capire che numero fosse era una volpe pallida era una volpe pallida sicuramente però anche mia madre era un po' una volpe pallida perché questa storia della volpe pallida funziona è una funzione la puoi applicare a qualsiasi cosa ci potrà anche scrivere nove volendo lei dice mia madre ma non ci riusciva faceva un nove che partiva così e diventava una S e quindi sì e quindi avevano questi problemi però appunto si amavano moltissimo e le lettere sono piene di anche di formule piene di di fantasia che io non non ho mai avuto non eh mio padre per esempio usava eh un sacco di metafore ingegneristiche no per per descrivere il suo amore diceva che il suo amore era sintotico sintotico e si avvicinava sempre all'infinito no poi faceva gli mandava per esempio sommatoria di n da zero a infinito di bacini ah dai sì e così invece mia madre che era appunto amava la poesia la musica suonava il pianoforte era tutta più su metafore poetiche filosofiche no sì quello è stato un momento bello un momento bello in cui ho dovuto occuparmi di perché ho voluto anche ho voluto incastonare le loro frasi nel mio racconto per cui il racconto scorre di queste di questi tre anni in cui sono stati fidanzati ma ogni tanto c'è una frase che è una frase che viene dalle loro lettere ed è stato è stato un bel esercizio di scrittura questo per esempio di cui sono molto orgoglioso perché perché sembra che parlino insieme a me no sì a distanza di di tempo sì grazie a tutti Grazie a tutti.